Hello, 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 and hello. Da quanto tempo non ci si vedeva in un video ASMR? In questo video farò dei mouth sounds e dovrete promettermi soltanto una cosa, di mantenere gli occhi chiusi e ascoltare attentamente. I miei mouth sounds saranno tanto tanto piacevoli, as always, alla fine, però per poter dormire attraverso questa tipologia di ASMR dovrete mantenere gli occhi chiusi e ascoltare tutti i miei mouth sounds. Non vi preoccupate, sarà un attimo. E riuscirete a prendere sonno una roba molto più veloce di quello che pensate. E soprattutto, anzi tra le altre cose, sono appena tornato da un viaggio da Milano e quindi si vede che ancora devo farmi la barba. Poi ci penserò a questo. Intanto penserò a voi e al vostro relax definitivo attraverso i mouth sounds, quelli che possono piacere tantissimo. Pertanto, iniziate a chiudere gli occhi e manteneteli chiusi mentre siete distesi in una posizione confortevole. Per tanto, crei, 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 questo è indimenticabile, mi sa. Crei, 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 crei cren di crea, 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 crea continuo a mantenere gli occhi chiusi così il momento del sonno arriverà subito c'è tutto c'è l'escrizione crea, 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 questo è un trigger estremamente superifero crea, 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 cre griabbere gubale griabbere gribe griabbere 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 Secondo trigger, tongue clicking. Secondo trigger, tongue clicking. Soponga Tick tock, tick tock. Questa è la nella tra. ticca 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 continuo a mantenere gli occhi chiusi e goditi i suoni ticca 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 col close up ASMR diventa tutto molto più intenso ticca 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 ticca-ticca no ticca ticca prima di tutto occhi chiusi ticca 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 e adesso farò un altro trigger Stavate aspettando i wet sounds. 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 a presto Grazie. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Remember, keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Take 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 your eyes closed. E questo era il super trigger con i super mouth sounds. Take your eyes closed. 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 cacca 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 E prima di augurarvi la buonanotte, volevo dirvi che mi dispiace per il fatto che non sono stato presente nell'ultimo periodo, poiché per adesso sto facendo un super detox e poi come dicevo prima all'inizio del video ho fatto un viaggio a Milano non esattamente di piacevere, però da ora in poi sarò molto più presente qui su YouTube, dunque vi auguro la buonanotte e vi auguro di risvegliarvi alla grande domani, mi raccomando, have a good night! Got him, got him, got him. Grazie.